Si chiama Beyond Snow, un progetto di cui è curatore Andrea Omizzoli, di cui si è parlato nel convegno Neve Diversa, promosso da Lega Ambiente nella sede della città metropolitana. Parliamo di andare oltre la neve, di garantire l'ambiente, ma i posti di lavoro nella nostra montagna piemontese e in generale del nord Italia. Certamente. Si tratta di un progetto molto particolare che interessa la fascia montana medio-bassa. Quindi non stiamo parlando delle destinazioni turistiche di alta quota, ma quelle piccole destinazioni, spesso di comunità, a medio-bassa quota, che sono le prime che cadranno a causa dell'effetto del cambiamento climatico. La mancanza di neve ovviamente le interesserà e l'economia legata alla neve, alla presenza della neve, verrà a mancare. Quindi il progetto intende trovare delle soluzioni e cercare assieme alle comunità locali di trovare quelle modalità affinché si possa fare economia in montagna, anche turistica, ma non necessariamente solo legata alla presenza massiccia della neve. Bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare attività, non puntare più sullo sci, soprattutto nelle stazioni piccole a bassa quota. Che attività si possono ipotizzare e che cambiamento culturale anche del turista deve avvenire nei prossimi anni? Sicuramente l'obiettivo è quello di fare una transizione socio-ecologica verso forme di turismo sempre più compatibile, ovviamente. Ci sono tantissimi esempi ovviamente in queste montagne, soprattutto in Italia ci sono esempi molto interessanti. D'altro canto non bisogna neanche demonizzare gli impianti o chi gestisce un impianto. L'impianto può essere trasformato per permettere a molte persone di poter arrivare in quota, sfruttando ovviamente una modalità diversa dell'impianto. Le stesse strutture scistiche possono essere riconvertite per fare altre attività economiche. Un turismo lento legato all'wellness, alla salute, a ritornare in montagna camminando in famiglia senza necessariamente sciare. Sonia Cambursano, consigliera metropolitana delegata alle attività produttive e al turismo. Il decisore politico in questo caso, bisogna trovare un futuro alla nostra montagna, alla montagna che ha vissuto dello sci per tanti decenni. Il decisore politico che ruolo può giocare? Direi che intanto città metropolitana è particolarmente toccata da questo argomento perché il 52% dei comuni sono comuni montani, spesso piccoli e piccolissimi, che hanno vissuto sul turismo della neve per molto tempo. Quindi non possiamo lasciarli soli, dobbiamo assolutamente intervenire e operare come ente di secondo livello per sostenere delle progettualità, anche promuovere delle progettualità. Ed è quello che stiamo facendo attraverso questo progetto che si chiama Beyond Snow, che prova a pensare attraverso due progetti pilota con due comuni che sono nelle valli di Lanzo, che sono il comune di Aria di Stura e il comune di Balme, che sono località ex sciistiche ma sono di media altitudine. provare a pensare in queste località che cosa ci può essere oltre il turismo della neve, perché il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e quindi bisogna provare a dare un futuro pensando in anticipo a che cosa può essere. Un futuro vuol dire proporre nuove attività e cercare di proporle soprattutto 12 mesi l'anno. Esatto, esatto. Un turismo non legato ai due mesi di innevamento, che tra l'altro adesso manco ci sono più, ormai la quota neve si è alzata moltissimo. Quindi provare a ripensare l'economia di quei territori in un'ottica generale, legando al turismo altre attività che possono portare sviluppo alle comunità locali.